Il sito di Bosco a San Cataldo sarà bonificato a comunicarlo in una nota congiunta il sindaco di San Cataldo Giacchino Comparato, quello di Mussomeli Giuseppe Catania e il sindaco di Serra di Falco Leonardo Burgio. Proprio l'opera di bonifica eviterà che quel logo sia utilizzato come sito di stoccaggio dell'amianto e di altre sostanze pericolose. Così è stata approvata dalla regione siciliana la proposta di finanza presentata dalla GMRI-SRL denominata Progetto per la rimozione dell'ammasso salino a bancato all'interno dell'area della cessata concessione mineraria per i sali potastici di Contrada Bosco Agro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, conosciuta come sito Bosco. Notizia aggiunta tramite una nota qualche giorno fa dall'assessorato regionale delle energie e dei servizi di pubblica utilità con cui è stato dato l'ok alla fattibilità della proposta. Presentato a giugno 2021 dalla società GMRI-SRL il progetto di finanza prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro a totale carico della società proponente 18 mesi di tempo per il completamento delle attività di preparazione e sistemazione dell'area di interesse, nella costruzione delle strutture necessarie alla lavorazione e delle relative pertinenze ai servizi e della realizzazione delle opere e dei lavori primari per poter procedere alla coltivazione. Soddisfatti, i tre sindaci hanno dichiarato. Positive saranno le ricadute economiche, lavorative, ambientali e sociali dell'operazione sul territorio. Quello compiuto è un primo passo dopo l'ammasso sanino, si dovrà procedere anche alla rimozione di tutto l'amianto presente nell'area. Non intendiamo abbassare la guardia. Ad esprimere la propria soddisfazione anche i tanti volontari e le associazioni coinvolte dal Movimento 5 Stelle di San Cataldo e Serra di Falco, al gruppo No Serra di Falco, al WWF e ancora al Comitato Letizia e tanti volontari che si sono spesi in questi anni per ottenere una bonifica integrale del sito, che hanno seguito la vicenda sin dagli esordi e hanno detto «Abbiamo lottato a lungo perché si raggiungesse l'obiettivo di non stoccare amianto nella minera Bosco né in quella di Milena e perché si eliminasse una fonte di inquinamento, quello della montagna di sale. È stata una lotta dura ma alla fine appagante, a dimostrazione che le popolazioni che si impegnano per un nobile scopo sociale spesso vincono le resistenze e le aberrazioni. Hanno lottato in questi anni per ottenere una bonifica integrale del sito».